Salve a tutti, oggi siamo nel campo di sperimentazione IPS, una varietà di origine californiana proposta qui dalla Zyger Genetics che sviluppa IPS. La varietà arriva in epoca di maturazione una settimana prima di Sweetheart ed è una varietà con una componente zuccherina abbastanza elevata e dobbiamo raccoglierla quindi con un codice CTFL situato fra 5 e 6. Quindi questa è una cosa importante da rispettare l'epoca di raccolta. Quindi questa ciliegia molto interessante a livello del calibro della produzione perché è autofertile, l'abbiamo in Francia in pieno campo e l'abbiamo anche su altri paesi come in Italia, quindi passo la parola a Gianluca de Viva e Geoplant per farci vedere un attimo il campo di Royal Helen in Italia. Buongiorno a tutti, mi chiamo Gianluca Pasi, sono tecnico di Geoplant Vivai. Oggi mi trovo in un'azienda cerasicola nei pressi di Cesena e la varietà che vi mostro si chiama Royal Helen. In questo impianto vediamo delle piante di quarta foglia innestate su Gisela 6, quindi piante in piena produzione. La varietà si presenta molto bene nonostante le forti precipitazioni del mese di maggio. Come potete vedere il calibro è elevato, siamo ben oltre i 32 mm di calibro medio, peso medio superiore ai 13 grammi, 13-14 grammi, polpa croccante, molto consistente, acidità bassa e grado zuccherino superiore ai 20 gradi Brix. Queste sono le caratteristiche principali di questa varietà. Varietà tardiva, auto fertile, quindi molto produttiva, come è sempre stata in tutti gli anni di sperimentazione fino ad oggi e molto interessante nell'epoca di moturazione del tardivo.